Sì, buonasera, senti, io ti voglio dire una cosa, ho deciso di iscrivermi in protezione civile. Pericoloso? Eh, no, perché dovrebbe essere pericoloso? Sì, buonasera. Non ci preoccupare, non lo so che non si scherza col fuoco, e non lo so, quando bisogna andare, quando stanno le emergenze, poi capita, può caldare lunedì, sabato, non lo so. Le emergenze, sì, ma poi quando uno, se troviamo qualcuno che si è fatto male, interveniamo, è normale, quello si riferisce. Sì, buonasera. No, ma io non le ho mai fatte queste cose, non è che fare, le cose ci fanno fare i corsi apposta, è normale. Ma, comunque, io te lo dico da adesso, nel momento in cui ci sta l'emergenza, può darsi anche che ci fermiamo qualche giorno, là. E quindi pure la notte, sì, dove dormiamo, eh? E mamma, è in albergo, ci daranno una stanza, non lo so, quello è la protezione. Se è brutto tempo, è quello, se è brutto tempo, rimaniamo in albergo, è normale, non... Perché lo faccio? Ehm... Perché voglio dare un contributo attivo alla mia città, anche se si tratta soltanto di un giorno a settimana. Grazie a tutti.